bella raga bentornati in questo nuovo video e benvenuti se siete nuovi nel canale oggi aggiornamento settimanale vi faccio vedere che oggi è una settimana bomba per fare rp ragazzi ma veramente una cosa assurda ci sono un sacco di gare stunt con rp per 3 raga ciò cosa vuol dire che se troviamo le lobby piene i primi posti prenderanno botte di 15 20 mila rp è una cosa assurda io all'epoca quando ancora non facevo lo youtuber raga tiravo sugli account in una settimana 120 giocando quindi approfittatene se volete perdere del tempo ragazzi con gli amici giocando e maxando anche i vostri livelli poi passiamo ragazzi a qualcosa di più carino è uscito questo nuovo veicolo che vedete anche di sottofondo che ho già moddato che ricorda la renault clio b turbo questo qua ragazzi l'hanno fatto a cazzo di minchia ve lo dico già perché è elettrico e renault 5 è turbo c'è la turbina quindi è a benzina raga e non c'è nient'altro su san andreas quindi poi passiamo qua da simeon dove troviamo la penumbra poi abbiamo questi altri veicoli ragazzi anche la paria è un botto che non ce la riproponevano ragazzi e poi abbiamo le formula 1 niente di speciale e niente di nuovo idem compattate anche dallo showroom quello nuovo raga e quindi io adesso passerei a ls auto raduno che anche lì non è che ci sia niente di granché infatti raga troviamo questo veicolo che ormai ce lo portiamo da un sacco di anni dietro e ci riportiamo anche raga la pista rotto 1 1 eccetera eccetera questi veicoli sono sempre gli stessi ne avremo a coppie doppie triple nei nostri garage ma rockstar non ci dà niente di nuovo a parte quei 4 veicoli che stanno uscendo settimanalmente esclusiva au ragazzi ci ripropongono questa macchina qua la astro custom dopodiché possiamo uscire e andiamo al casino intanto raga ne approfitto per farvi una sorta di reaction al veicolo nuovo questo veicolo qua raga è una bomba è veramente una bomba va fortissimo ha un'accelerazione allucinante e si guida veramente bene parte io che prendo i muri rimbalzo a 100 metri d'altezza ma quelli sono dettagli quindi una volta che siamo arrivati al casino come vedete ci ripropongono questa auto che dovrebbe essere del vecchio DLC dell'agenzia e se volete vincerla glitch della ruota semplicemente appena raga vedete cosa vi sta uscendo se non vi piace chiudete il gioco e riavviate ora una cosa bomba una cosa simpatica come avete visto dall'inizio del video l'outfit che ho ho postato anche il video prima di fare l'aggiornamento settimanale oggi ho voluto fare le cose al contrario raga ci sono delle bici nuove elettriche hanno il turbo costano 50.000 raga ma sono divertentissime se volete perdere tempo con i vostri amici fatelo e se volete prendere anche quell'outfit vi lascio in descrizione di come fare bella raga io spero che questo video vi sia piaciuto se vi è piaciuto lasciate un like alla prossima sbada bam bella Grazie a tutti.